Sicuramente questo è un tema molto importante che abbraccia campi diversi, non soltanto quello dell'utenza finale ma nel caso nostro anche quello della ricerca, perché una serie di stimoli che stanno venendo dall'affrontare queste problematiche sulla sicurezza in internet stanno stimolando di fatto anche gruppi di ricerca che lavorano sempre di più non solo sul lato algoritmico ma anche sul lato della comunicazione, dell'informazione, della gestione del dato.